Sarà Teramo a partire per prima in Abruzzo con la campagna vaccinale agli over 80. La data è fissata per il 15 febbraio e sono in arrivo 50.000 dosi destinate all'intero territorio abruzzese. La buona notizia è che l'Abruzzo sarà pronto per metà del mese ad iniziare la vaccinazione agli anziani, termine entro il quale saranno stati già vaccinati gli operatori sanitari. La brutta notizia è che arriverà il 20% in meno di dosi previste dalla prima stima e tante, tantissime, oltre 40.000 sono già le prenotazioni. Il governatore Marsiglio si dice però ottimista e soddisfatto dalla risposta della popolazione alla campagna vaccinale. Il primo vero rischio che dovevamo superare nella campagna vaccinale era la diffidenza della popolazione, magari anche dopo qualche anno che dissennate campagne Novavax avevano inquinato un po' il dibattito pubblico sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini. Quindi credo che questo sia già intanto un buon risultato. La nostra piattaforma ha raccolto già questi numeri importanti. Siamo pronti a partire, lo faremo andando sul territorio. E' chiaro che la vaccinazione della popolazione interessata non si può fare soltanto negli ospedali, ma verranno messe a disposizione tutta una serie di strutture. Stiamo lavorando con le amministrazioni a partire da quelle regionali, da quelle aziendali delle ASE, anche con il coinvolgimento dei comuni, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, che nel frattempo stiamo vaccinando. E nel frattempo queste nuove varianti sono più aggressive, e non colpiscono in maniera pesante solo gli ottoageniari o gli ultra 65 anni. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore noi abbiamo segnali di accesso in ospedale, con situazioni di polmonite molto gravi da parte di categorie più giovani, quindi 50 anni, 60 anni. Questo è una fonte di gravissima preoccupazione. e dobbiamo moltiplicare le energie e rivolto ai cittadini di moltiplicare e continuare a moltiplicare le attenzioni.